io gli ho detto non comprate il pesto dal droghiere e loro che fanno ci vanno e comprano il pesto ma lo faccio io il pesto migliore basta sempre così sono io che devo fare tutto non è giusto però io cucino pulisco lavo e in cambio cosa ottengo niente nemmeno un po di rispetto almeno il mio piccolo bambino vito là sopra mangia sempre le lasagne della sua mamma e come gli piacciono magari non bevesse pure tutto quel vino rosso tutti sono così pigri qui sono io l'unica che lavora ma cos'ha la gente oggigiorno tutti vogliono soldi soldi solo soldi così possono comprare la pizza sì quella fatta in fabbrica però non hanno onore non hanno gusto niente nessuno più prende le cose con calma qui per fare da mangiare ci vuole tempo e amore amore sempre avanti avanti forza forza piano gli dico io per le mie lasagne ci vuole tempo e sono sempre le più buone non è giusto